Stef? Sì, Fere, dimmi. Ho una notizia da darti. Dimmi pure, Fere. Ma, è seria, vieni, sediti qua sulla fornace, mettiti qua, perché secondo me devi stare seduto e tranquillo. Oh, ok. Sono morti tutti i tuoi sudditi. Cosa, Fere? Di fame. Sono... Sono tutti morti. Fere. E sei rimasto l'unico che deve badare a questi infiniti campi. Come hanno fatto a morire di fame se abbiamo un sacco di grano, Fere? Eh, perché non si è prodotto abbastanza in fretta e loro non avevano cibo e sono tutti morti. Ma quindi devo fare il lavoro per dieci persone da solo, Fere? Esatto, Stef. Non è possibile. E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki. E io sono Stef, perché siete chiamati con l'Annie Survival. Ovviamente continuiamo questa serie. Stef, te lo devo dire, i consolini sono stati super entusiasti. Lo so. Pensa che ci hanno messo quasi 5.000 like. Cosa che non capita praticamente mai. È stato bellissimo e ne sono super felice. Sì, però l'hanno fatto per gli schiavetti, Fere. Ma adesso per colpa tua gli schiavetti non ci sono più. Colpa mia? Allora, se tu eri l'addetto ai campi, li hai lasciati morire di fame. Allora. Guarda la faccia, è la faccia da colpevole. No, Fere. Tu hai la faccia da colpevole. Tu hai la faccia da colpevole. Voglio dire una cosa. Chi è che nel primo episodio diceva Dai, fanne altri, metti altri schiavetti. Così più persone che lavorano, bla bla bla. È stata Fere. Ti ho sparato tutte le fecce. Ha fatto di avere troppi schiavetti, ha comportato il mangiare troppo cibo, che ha comportato e farli morire di fame. Quindi, Fere, Niki, uccidono gli schiavetti. Ma li facciamo rinascere, non succede niente. Vi voglio far capire una cosa, Consolini. Vedete tutti questi campi di grano? Ecco, io sono rimasto giorni e giorni così da solo a prendere il grano e a ripiantarlo al posto degli schiavetti. Nel mentre Fere, Niki, poltriva. Cioè, sei tu un suddito. Cioè, i sudditi fanno questo. No, Fere. Guarda che i regnanti non si mettono a coltivare i campi. L'accordo era ben diverso. No, era così. Avevamo detto che io sarei stato il tuo schiavo. Sì, ma non sei stato in grado di accudire i nostri schiavetti, quindi adesso te ne prendi le conseguenze. Non li ho fatti morire io. Lavora, 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 che oggi abbiamo tantissime cose da fare. Allora, facciamo vedere le novità. A parte il fatto che non ci sono più schiavetti. Le mura sono finite. Perché non le chiudiamo del tutto? Perché se noi chiudiamo del tutto e gli schiavetti non hanno più un posto da dove passare per uscire eventualmente dal villaggio, risulta come se siamo in una situazione di fortificato, ok? Ok, ok, ok. E consumiamo molto più in fretta il cibo. Quindi dobbiamo lasciare uno spazio piccolo aperto. Ovviamente qua metteremo un po' di guardie, così staremo super al sicuro. Ok, ottimo. Poi, guarda qui che cosa ho fatto. Ho fatto una piccola miniera, super carina. Bella, bellina come l'hai fatta fuori. Vero? È uscita bene. Sì, mi piaceva. Quindi da qui si entra e ovviamente c'è tutto lo scavato che ho fatto per formare la pietra, per concludere le mura. Quindi Stef si è dovuto fare questa minierina da solo, tutte le mura che vedete, tutti questi campi di grano e ferinichino mentre era lì che si prendeva il sole, tranquilla e beata. E questo che fanno i regnanti. Quando tu sarai un re lo potrei fare. Allora. E se ti comporti bene magari un giorno potrei anche essere. Se non vuoi una rivoluzione fatta da me stesso. Ma ti do due calci in faccia che cosa vuoi fare di rivoluzione? Vai, dimmi, dimmi, dimmi. Mettiti in miniera a prendere legna e c'è pietra che iniziamo a costruire un po' di cose belle. Sì, guarda, lo faccio perché voglio, allora, oggi ti dico, voglio migliorare un pochettino le mura perché questa forma dritta non mi piace troppo. E voglio fare un rifugio per i nostri prossimi schiavetti. Perché dai, mi sembra giusto fare... Proviamo a trattarli meglio questa volta. Eh, magari una casetta così anche se hanno fame diciamo che chiudono un occhio e non muoio. Non credo. Questo è il nostro cibo totale, però lo dobbiamo dividere a metà perché non rendendolo pane vale soltanto la metà. Quindi più o meno abbiamo poco più di 300 di cibo. Quindi teoricamente possiamo fare 6 schiavetti, ma se ne facciamo 6 finiamo il cibo. Eh, esatto. Quindi muoiono di fame. Quindi probabilmente adesso ne faremo 3 e andremo avanti piano piano. Almeno inizieranno a lavorare loro e faticherò un po' meno. 688 di cibo, quindi circa 340 di cibo. Allora direi che è ora di far tornare almeno 3 schiavetti. Quindi andiamo qua. Sì, 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 è il momento, Ferre, è il momento. Allora, 1, 2 e 3. Ciao, mei schiavetti. Se uno va a lavorare il pane, magari riusciamo a produrre anche un po' di cibo in più. Eh, sì, 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 esatto. Mi ha fatto la finta. Aspetta, aspetta, aspetta. Io ancora non l'ho capito. Oh, Ferre! Sta creando la pagnotta! Ce l'ha fatta a fare il pane? Sta finalmente creando la pagnotta! Non puoi fare queste cose quando io sono in miniera? Scusami, Ferre! È andato a dormire. Ha fatto un panino? No, ha ragione, è diventata notte. È stanco. Ha cucinato un panino ed è stanco. Licenzialo. Dimmi, Ferre. Licenzialo. Basta, basta. No, Ferre, 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 mi stavo dimenticando. È notte! Devo difendere i nostri schiavetti. Hai ragione. Non posso farli morire. Ti prego, non farli morire di nuovo. Cari, Stef. Finito di prendere questo e arrivo. Aspetta, 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 aspetta. Teoricamente le mura dovrebbero rallentare gli zombie. Sì, sì, assolutamente. È tutto a posto, schiavetti? State dormendo bene? Guarda, era arrivato il primo zombie. Giusto in tempo. Ah, ok, gli schiavetti stanno bene, Ferre. È tutto a posto. Allora, io ho preso dell'oro, quindi quello giallo. Ricordati che è proprio gold. Gold, quindi oro. L'altro non lo so. La cosa che farebbe davvero comodo è il carbone. Perché col carbone ci facciamo le torcine e illuminiamo tutto ancora meglio e facciamo una figata incredibile. Quindi ricordiamoci quando siamo sotto a scavare di prendere il carbone. Quanto è fatto di pietra? 50. Le mura sono tutte fatte e sono bellissime. Vero, vero. Qual è la mia idea? Ci stanno bene, ci stanno bene. Praticamente noi mettiamo un blocchetto, adesso te lo metto così giusto per, tipo, cosa ne so? Qua, ok? Ok. In modo tale che i nostri schiavetti possono salire e fanno da, diciamo, arcieri sopra le mura. Uh, allora aspetta, 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 aspetta. Aspetta, mi devo organizzare. Ok. Direi di distribuirli bene per cercare di riparare al meglio le mura senza però farne troppi. Sì, perché se non sappiamo che fine fanno, io direi di metterne uno. Allora, di sicuro uno qui e uno qui perché è l'entrata e da dove ne arriveranno di più. Ok. Poi magari qui al lato, che dici? Tipo qua. Facciamo una cosa. Ok. Non esageriamo con le guardie, però la mettiamo queste due e vediamo se riescono a salire e se riuscire a uccidere tutti i mostri. Ok, mi piace. Allora, io inizio a piazzare qui un bellissimo quiver. Vediamo se funziona così. E poi ne piazzo uno invece qua. Vediamo adesso appena reclutiamo degli schiavetti se funziona. Ferre, difendi dagli zombie e nel mentre faccio vedere ai consolini cosa tutto sto facendo. Praticamente ho passato tutta la giornata a prendere il grano, dato che gli schiavetti lavorano un singolo campo di grano. Quindi ne abbiamo due che sono andati a lavorare due granetti. Uno che sta facendo pane tutto il tempo e infatti guardate. Aiuto. Abbiamo, che è successo? Mamma mia, mi è sceso un colpo. Che è successo Ferre? Perché mi è arrivato in testa un mostro? Ha creato 66 di pane che però invece che valere mezzo come il grano vale 3. Quindi dobbiamo fare 66 per 3 che Ferreini chissà quanto fa. Certo. Dovrebbe essere tipo 180 qualcosa. E quindi abbiamo un sacco di cibo perché 180 qua, 200 qua possiamo creare secondo me almeno altri due schiavetti. Due ce li possiamo concedere. Ok. Non voglio però mai esagerare. Quindi arriviamo. No esatto, facciamo le cose per bene stavolta. Così consumiamo 50 di cibo al giorno. Ok. Ok. Cioè ogni due giorni scusami. Adesso è un nuovo compito perché hai finito le mura ma adesso bisogna fare la casetta degli schiavetti. E vogliono pure la casa. Sì Ferre. Hanno i lettini. Allora ok. Ma vogliono un tetto sopra la testa. Quando passa la notte visto che qua sono l'unica guardia che combina qualcosa mi metto a costruire quello. Va bene Ferre va bene. Guardate siamo tornati ad avere 5 schiavetti che lavorano. Allora lui lavora al pane. Tutti gli altri mi sa che lavorano in alcuni campi di grano. Quindi vediamo un pochettino, osserviamoli. Si stanno posizionando tutti nei campi di grano più lontani. Forse perché così li vedo meno. Fammi vedere un po'. Sono furbi eh Ferre. Sono furbi che si chiama. Sì 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 molto molto. Ok si lavorano a 4 campi di grano. Perfetto. Quindi tutti quelli che vedete pronti. Devo riprenderli io perché loro si sono fermati nei campi di grano. Ok. Dove non c'è nulla da fare perché sono furbi. Quindi mi tocca tornare a lavorare. L'unico che lavora sodo qua è quello che fa il pane. Sinceramente è l'unico di cui vado davvero fiero. Però posso provare a passare vicino a uno che lavora qui per dargli l'arco. Ok. Vediamo un po'. E che succede se gli dai l'arco? Che diventa uno schiavetto guardia. Ok. Dice che non ha voglia. È troppo impegnativo fare la guardia. Dai schiavetto. No è il compito più impegnativo di sicuro. Diventa una guardia. No. Non gliene frega nulla. No 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 no. Dovrò reclutare qualcuno senza lavoro per farlo andare a fare la guardia lì. È perché lo volevo vedere sopra la torre. Lì come sta andando a fare? Bene. Sto iniziando a costruire. Ok. Mi fido di te. Mi raccomando lascia una porta perché altrimenti lo sai che... Sì no sto già pensando questa sarà la porta perché altrimenti... Non sono molto furbi. Che li chiudiamo dentro poveri lì. Da quanto la facciamo altra? Boh vedi tu vedi tu. Il pane sta aumentando a dismisura. Allora siamo a 126 di pane che vale per 3. Quindi siamo oltre i 360. Che non è male per nulla. Secondo me ci possiamo permettere altri due schiavetti. Non dovrebbe essere nemmeno rischioso. Quindi li faccio. E devo cercare di reclutarne uno subito come guardia. Vediamo se ci riesco. Diventa una guardia. Diventa una guardia. Ti prego dai. Fallo per Steph. Fallo per Steph. Tu. 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 Prima di andare a lavorare in un campo diventa una guardia. Non ti ha ascoltato? No. Mi dispiace Steph. Però non ho potere su questi schiavetti. Ho notato. Ho notato. Steph hai della paglia. Però ho già 6 campetti in meno da fare. Ok. Quindi quanto meno sono un po' felice dai. Oh che bellino che lo stai facendo. Hai della paglia? Sì. Io ne avevo solo 25. Puoi finire il tetto. Volevo fare il tetto di paglia. Ok ne ho 350. Ok. Vai finisci il tetto e allora ti piace? Infatti ho scoperto come si fa la paglia. Non lo indovinerai mai quindi ti faccio. Secondo te come si fa? Dal grano. Dal grano. Era abbastanza ovvio. Praticamente ogni volta che prendi il grano ti ridà un semino di grano per continuare a piantare, della paglia e ovviamente il grano. Volevo fare il tetto un po' come le mura sai ad esempio con gli spuntoni però ho finito la pietra quindi direi che per ora lo molliamo così. Se vuoi te lo faccio però eh perché io ce l'ho. Se riesci a spiegarmelo te lo faccio. Sì sì. Fare ho tipo 300 di pietra. Eh non me li puoi dare? Eh no. Purtroppo no. No 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 non c'è un modo. Però guarda il tetto è fatto, la casetta è fatta ed è molto molto bellina. Quindi che dici? Ti provo a fare questi spuntoni? Eh sì ce li presenti, volevo metterli, cioè un po' come questo, non so come si chiamino vedi questi cosi? Ok. Metterli un po' sulla casa per dare diciamo forma al suo fitto. Ah comunque nota importante, non c'è la gravità come su Minecraft quindi lo vorrò sfruttare per fare qualcosa di pazzo prima o poi. Ok. Allora ogni quanti? Allora mettine uno e vediamo. Una? Eh fai uno sì e uno no. Così? Sì. Sì. Ti piace? Decisamente carinissimo sì perché non essendo molto grande è bellino addobbarlo così. Che bello stiamo collaborando Fere. Oh che bello. E' una giornata bellissima per me. Allora poi qua così va bene? Sì dai vabbè. Perché tocca. Non è il massimo però patente. Eh lo so però non è contato, cioè non l'abbiamo fatto di proposito per essere perfetto. Quindi tocca arrangiarsi un pochino, guarda. Bellissimo. Vieni a vederlo da sotto. Arrivo. Dai è carino. Ah mi sono accorto di un errore. Che cosa? Vieni qua. Mi devi cambiare questo blocco. Pietra, pietra, pietra. Ok. E quindi in tutti i lati, in tutti i lati. Vediamo se entrano. Vieni, vieni, vieni da questa parte. Ci sono, ci sono, ci sono. Ma aspettano, leviamoli questi che se no questi se ne salgono nel sito. Vai schiav... No ma che, ma che guarda li stanno già andando a letto. Secondo te hanno sonno. Guarda che... No dai è troppo bellino. Guarda ci entrano. Aspetta che aggiungo una cosettina perché... Delle torce, vero? Ci tengo tantissimo. Tenete un po' di luce? Andiate a dormire i schiavetti nostri? Oh, che bravi. Chi sono i nostri schiavetti? Allora, per fortuna non si incastrano, quindi ho calcolato abbastanza bene le distanze. Oh dai, mi piace. Come primo rifugio fatto così al volo mi piace. Non è male. Sì, sì, sì. Guarda come sono felice adesso di lavorare, Ferenda. Da quando li hai fatto la casetta sono tutti molto più felici. Allora, io direi che ci possiamo fermare così per questo video. Nei commenti iniziate a proporci che cosa vorreste vedere lì costruito. Quindi tipo se volete una bella torre per mettere magari un arcere lì. Qualcosa del genere. Si può fare davvero di tutto. Si può costruire tutto. È come Minecraft. Per di più non c'è la gravità, quindi si possono fare anche un po' di cose pazze. Quindi proponeteci nei commenti tutto quello che vorreste vedere. Tra un episodio e l'altro farmiamo un bel po' di cibo. In modo tale da arrivare almeno a 30-40 schiavetti nel prossimo episodio. Perché voglio iniziare a vedere un vario e proprio regno ed impero gigantesco. Anche perché poi ci dobbiamo costruire il castello. Quindi se ci vogliono tante risorse per il castello. E dobbiamo avere tante persone che lavorano per noi. Il primo schiavetto che va a lavorare in miniera qua. Che se no dobbiamo continuare a prendere nella pietra. Il castello lo vediamo tra 20 anni. Esatto, esatto, esatto. Quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Nel caso supportate la serie con tanti likes. Fateci sapere qui in sondaggio. E ci fermiamo così. Spero che siete riusciti. Sieteci un bel like. E se la prima volta che vi ho avuto il nostro video. Potete considerare l'idea di iscrivervi. Per non perdervi gli altri episodi. Ciao e alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Grazie per la visione!